A due passi da piazza Matteotti, imboccando via delle pelliccerie, siamo entrati all'antica Maddalena, locale storico di Udine. I titolari, Rosanna e il marito Ugo, ci hanno raccontato la loro lunghissima esperienza ristorativa in attesa di lasciare a breve il comando al figlio Francesco. L'edificio nasce nel 1601 come casa del pellicciaio Bazzanai Vedasi. In quattro secoli si sono avvicendate innumerevoli attività fino al 1937 con la nascita della prima osteria alla fratellanza, per poi arrivare nel 1948 alla vecchia Maddalena. Ultimamente il locale alle due sale ristorative dei cuori e degli affreschi si è ampliato con la nuova sala del rame. Su invito di Rosanna e Ugo abbiamo degustato delle linguine con code di gamberi e capessanti, a seguire degli gnocchi al sugo di Moscardino abbinati con un bianco friulano. L'attuale antica Maddalena rispecchia la Udine raffinata, conviviale e colta nel gusto.